Ci troviamo nel centro storico, nella piazzetta intestante la chiesa della Madonna di Costantinopoli con Don Carlo Pisani per fare un po' di chiarezza per quanto riguarda quello che vedete alle nostre spalle e cioè dei calcinacci che si sono staccati dall'intonaco della struttura e diverse crepe che ci sono anche nella pavimentazione. Dobbiamo fare un passo indietro e precisare anche un altro particolare. Con Don Carlo Pisani Cilento Channel si è sentita nel mese di giugno proprio perché alcuni cittadini residenti del centro storico avevano segnalato sui social attraverso delle foto queste problematiche e ci siamo interfacciati con Don Carlo per chiedere spiegazioni e per eventualmente fare un'intervista. Dopodiché abbiamo contattato anche il presidente del Consiglio Massimo Laporta che si è subito attivato chiamando un geologo che è venuto qui a fare dei sopralluoghi, a fare delle verifiche per constatare lo stato dei fatti e ad oggi sembra che la situazione sia sotto controllo. Però noi ci teniamo, visto che Don Carlo ci ha spiegato la necessità di fare chiarezza per quanto riguarda questa situazione e oggi siamo qui per dargli la parola e spiegare come è andata la situazione e qual è l'attuale stato dei fatti per quanto riguarda la struttura, quindi la chiesa della Madonna di Costantinopoli e l'attuale piazzetta che insiste in questa zona. Sì, bene, bisogna fare un po' di cronestoria. Iniziamo da un fatto accaduto nel maggio del 2020 quando eravamo quindi ancora in pieno lockdown a seguito di un fortunale un muretto che era appoggiato alla parete della Canonica che faceva la divisione tra una proprietà privata che si trovava al di là di quel muretto e poi il precipizio della Lupe su cui invece si affaccia la piazza della Madonna di Costantinopoli in seguito a questo fortunale questo muretto crollò destando ovviamente preoccupazioni. intervennero in modo immediato i tecnici del comune con gli operai di Agropoli Servizi mettendo in sicurezza la zona con queste transenne che ancora possiamo vedere sono collocate in piazzetta e per fugare qualsiasi tipo di dubbio sulla stabilità della struttura operarono questa scalpellatura dell'intonaco proprio per verificare cosa ci fosse nella muratura e qui fu rilevata questa crepa che tanto, diciamo, desta preoccupazione. Trascorso poi altro tempo sempre i tecnici mi riassicurarono circa la natura di questa lesione che non comprometteva la stabilità della struttura. Nello scorso giugno, come ricordavi tu stessa poi il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Laporta mi propose di monitorare la situazione attraverso le strumentazioni tecniche adeguate questa indagine deformometrica che è stata operata da un'azienda autorizzata dal Ministero la Zeotecnia che approfitto anche per ringraziare che da giugno ad oggi ha tenuto in costante monitoraggio la lesione. attualmente il risultato di questo monitoraggio ci induce a pensare che non ci siano stati movimenti e né cedimenti nella struttura e quindi né tantomeno nella rupe sottostante. Quindi allo stato attuale i dati empirici ci dicono che la struttura è solida. Per quanto riguarda la piazzetta ovviamente io non ho le competenze per poter dire quali sia lo stato ma posso supporre che anche la piazzetta non corra a gravi pericoli. È importante precisare questo perché si potrebbe creare inutile allarmismo. È chiaro che la facciata della chiesa della Madonna di Costantinopoli che ha visto gli ultimi interventi importanti negli anni Sessanta da parte di Don Cesare cara donna di venerata memoria richiede sicuramente un restauro ma non c'è un'instabilità della struttura. Per cui io ringrazio le persone che si preoccupano che sollecitano che indicano però allo stesso tempo esorto a farlo con i dati in mano e verificando anche con chi diciamo queste vicende le segue costantemente onde evitare di creare inutili allarmismi. Bene, quindi possiamo rassicurare insomma i cittadini non solo del centro storico quindi residenti di questo borgo bellissimo che ha la città di Agropoli ma anche tutti i fedeli che tengono tanto a questa chiesetta che fortunatamente allo stato attuale non c'è nessun pericolo.